Sono stanco di perdere Oggi però facciamo una sbustata particolare Perché per far vincere Federico Stavolta sbusta Chi vince chi sbusta peggio Non ho capito un cazzo Sbusti chi perde Adesso ho capito Quindi se sbusti la carta niente Hai vinto Se sbusti la secret o la cost Hai perso E' fatta Sei pronta a sbustare sta cost Fatto Ma le coste non ci sono più In questa cosa Giorgio Come no Eh no Va bene Ah Per inaugurare questa nuova sbustata al contrario Apriamo predoni alati Perché ci piace Perché è una spazzione figa È una spazzione figa Tutta figa Che cominci Cominciando dai Cominciando 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 a me sto piacere Eccomi Ecco fatto Sfede Io non mi fido Sfede Secondo me ti metti tutte i gommon all'interno del coso Sfede Buco troppo la danza fine Mi serviva Mi serviva È una carta buona Hai già perso Si vede Vabbè è sempre una comune però Eh ma è forte Si vede Si vede Che Alucard I cavalieri fantasma dell'antico mantello Era meglio Alucard Era meglio Alucard Allora adesso vado io Sbustiniamo Grande campione Sbustiniamo Certo che è comodo Sbustare così Giorgio Tu non pensi Si Vero Io non so minimamente cosa sto facendo No in realtà lo so benissimo Anche io Alla stessa posizione Quindi si annulla Si annullano esatto Sono buco annullati Se trovi pure di questa carta Ho trovato la stessa bustina Perché pure il generale Zubabbo Ho trovato io No non l'hai trovato Si No Si Ecco Non è possibile Ecco È la stessa bustina Ma io sto trovando solo common Giorgio Quindi ho automaticamente perso Cowboy gaga gaga Io ho trovato Alucard però Cosa è meglio secondo te Cowboy forse Ma forse questo è meglio Non sono sicuro Eh beh Sì dentro di questa Non lo so Quindi ragazzi Secondo me Come al solito Cioè Dite chi secondo voi Ha vinto Però vince Che ha bustato peggio Esatto Non vi confondete Come ci siamo già confusi noi Io direi che questa volta A me è andata abbastanza bene Nel senso è andata male Perché ho perso Ma in realtà ho vinto Perché era Perché oggi è al contrario Era al contrario Perché insomma Io ho spisato forte Eh quella lì è una bella carta A posto a posto così Perché a posto così Abbiamo dovuto fare questa cosa Per farlo vince Vedete di qua Commentate Mi piaceteci Iscrivetevi al canale Nostro No Mio Tu No Tu Mio Nostro E anche quello di Barba Bianca 7 Mi raccomando Quindi è un canale Che va a pimpato una cifra Quindi Vai Vigorosi Iscrivetevi tantissimi E commentate Stay up